Buonasera mister, Matteo Brega, Gazzetta dello Sport, buonasera. Un paio di spunti questa sera positivi ci sono, immagino, no? Soprattutto oltre al risultato e alla prestazione, sente anche un po' di entusiasmo risalire nel gruppo? Ma sì, se vinci l'entusiasmo sale, come tutte le cose. Sono molto soddisfatto del primo tempo, meno del secondo, però il primo tempo è fatto veramente bene per me. Buonasera mister, ma è che il Lombardia è il giorno. Vero che è Coppa Italia, anche vero però che vincere aiuta a vincere. Due piccole note. La prima, se adesso è importante tenere viva questa fiammella, nonostante un impegno molto importante, molto pesante, molto forte, come è il Napoli. E poi se d'ora in poi Martins sarà aggregato definitivamente a questo gruppo? Grazie. Ma innanzitutto abbiamo vinto una partita dopo non so quanto tempo, perciò questo un po' rompe questa maledizione che c'era. Dobbiamo prenderla come cosa molto positiva. Però adesso arrivano due partite toste, sappiamo, dobbiamo andare a battagliarle nel modo giusto. Su Martins adesso vediamo, vediamo, adesso è una serata, è venuto con noi, ieri ha fatto due allenamenti con noi, abbiamo visto, abbiamo una bella gamba, l'ho fatta vedere anche stasera. Buonasera, Ministro Marco S.S. News. Le chiedo prima, Kira Coplos ha parlato di cattiveria. È quella che è mancata al Monza, soprattutto nell'ultima gara con il Bologna, o magari anche nelle precedenti, per portare a casa la vittoria che invece è arrivata stasera. E poi le chiedo, la classifica la preoccupa in generale? È uno che la guarda, non la guarda? Cosa dirà ai calciatori? Grazie. Ma la classifica la guardi quando stai più alto, adesso non è il caso. Perciò so dove sto, dove stiamo. Perciò so benissimo che dobbiamo vincere qualche partita e deve arrivare, deve arrivare. La cattiveria. Ah, la cattiveria, quello è un aspetto fondamentale nel calcio. A volte ce l'abbiamo avuto, a volte non ce l'abbiamo avuto e abbiamo pagato. E perciò dobbiamo trovare uno spirito costante nella partita. Poi nella partita ci saranno dei cali, ma dobbiamo tenere un pochino più su questo spirito, questo essere tosti, squadra tosta. La squadra che si deve salvare deve essere a volte un filo più tosta. Prego. Ciao Alessandro, Massimo Canta di Carta Canta, complimenti. Torno su quello che diceva, che raccoglio qualche minuto fa, diceva che probabilmente vi siete parlati, no? Tu, la società, tra i giocatori, per capire che cosa non è andato. Lui diceva proprio che dovevamo giocare in un modo diverso rispetto a quello che abbiamo fatto e che non dovevamo fare con il Bologna. E poi due parole su Caprari che ho visto bene in ogni zona del campo, l'abbiamo visto. Grazie. Parliamo, parliamo sì con i calciatori, con tutti, trovare un'identità che abbiamo avuto in alcune partite. L'ultima per me ci è mancato, c'è il momento che pressi e il momento che non pressi. Quando non pressi devi costruire i reparti, devi marcare lo spazio, non puoi lasciare i buchi. Quando pressi puoi andare forte e chiudere la palla, perciò o fai una o fai l'altra. L'ultima partita ci è mancata, col Bologna ci è mancato questo, a volte non pressavamo ma eravamo un po' sparpagliati e quello comunque ha concesso qualche occasione in più al Bologna. Però è questo, lavoriamo per trovare un'identità più forte, alcune volte si vede, alcune volte no, però lavoriamo per questo. Caprari bene, ha fatto bene, Caprari ha qualità, ha fatto Caprari. Caprari chiediamo di ripulire qualche pallone tra le linee, di puntare la porta, di crossare, di tirare. Stasera ha fatto un'ottima partita e perciò sono contento per lui. Buonasera mister Luca Savarese Radio Cross. Stasera sono stati impiegati anche chi magari ha meno minutaggio, tipo magari Valotti, hanno risposto tutti i presenti. Quanto conta questo atteggiamento anche all'interno del gruppo di disponibilità? Grazie. Ma no, tanto, tanto, sono contento, sono giocatori che erano un po' ai margini a inizio anno, un po' sono rimasti e piano piano stanno dando una mano. Sono fondamentali sia per quando giocano ma sia anche per l'allenamento. L'ultimo allenamento abbiamo fatto con sei primavera, è un momento che dobbiamo un pochino stringerci perché stasera abbiamo messo quinto bianco. E perciò, dai, dobbiamo andare a Napoli adesso, compattarci, tenere duro finché recuperiamo un po' di giocatori perché a volte non è facile. Prego. Buonasera, mister. Max Rigano, Forza Monza.it. Volevo chiederle, benissimo oggi la partita, chiusa bene già alla fine del primo tempo. Poi nel secondo c'è stato questo calo, no? La squadra oscilla tra dei primi tempi giocati bene e dei secondi tempi in cui sembra assentarsi per un po'. Oggi il Brescia non ha costituito un pericolo, però a Napoli non penso che possa essere replicabile un modello del genere. Perché accade? Sono d'accordo con te, questi secondi tempi, l'ho detto appena sono entrato e dobbiamo analizzare il motivo, il mentale, quello che è. Sicuramente il secondo tempo, anche di oggi, non è stato all'altezza rispetto al primo. Il primo mi sono veramente divertito, abbiamo giocato veramente una buonissima partita, abbiamo creato. Il secondo sembravamo un'altra squadra e questo non deve accadere. Dobbiamo trovare il motivo per tenere la squadra almeno fino all'ottantesimo, concentrata sul pezzo che ha la sua identità, le sue cose. È vero. Camillo Chiarino, buonasera a Nombardia Comunica. Oggi è la seconda partita dove mancavano parecchi giocatori, c'erano otto assenze. E' tratto anche in altre squadre, stanno mancando parecchi giocatori, sta un po' tornando il discorso che si fanno troppe partite. Volevo sapere un po' come la situazione adesso della situazione di infortunati del Monza. E poi se anche lei pensa che si giochi troppo in Italia. Allora, noi no. Noi non giochiamo troppo, noi giochiamo il giusto. Poi chi fa la Champions, chi fa la Coppa Italia, chi fa le nazionali, chi ha mille cose. Noi giochiamo il giusto. Tutti chiedono soldi nel calcio, ma per fare soldi bisogna giocare. Siamo disposti tutti a prendere meno soldi, giocheremo di meno. Se no bisogna giocare, ragazzi. Perché la macchina deve girare. Sì, è una situazione comunque della nostra... Situazione della nostra... Situazione infermeria nostra, quindi... La nostra, piano piano si sta smuovendo. Fra un po' tornerà Birindelli e Ciurria. Sanno lì, pronti. Adesso fra un po' torneranno con noi e piano piano li ribotteremo dentro. Ciurria chiaramente con un po' più d'attenzione, mentre Birindelli probabilmente sarà più veloce il rientro. Sensi ha avuto un problema, Sensi ancora ci vuole tempo. Andrea Rurali, Pagine Mondiali, Binario Sport. Ciao mister, complimenti per la prestazione di stasera, soprattutto per la vittoria che mancava da un po' di tempo al Monza. Adesso bisogna switchare anche in campionato per fare punti. La trasferta di Napoli è molto insidiosa. Quanto manca al Monza per vedere il Monza che tu hai in mente? Non lo so. Sicuramente più costante nella partita. Siamo alla ricerca di questo. Un filo più alto ogni tanto. Però è poi con un organico al completo. Perché già siamo un po' in difficoltà. I cambi non è così semplice. Poi è questo. Poi dopo vedremo il Monza se sarà meglio o se sarà peggio. Però sicuramente migliorerà quando arriveranno tutti e torneranno tutti a disposizione. Buonasera mister Andrea Guazzoni, giornale di Monza, sono qua. Volevo chiederle in vista della partita contro il Napoli se ha in mente qualche modifica, qualche escamotaggio dal punto di vista tattico e quali sono un po' i punti di forza di un Napoli che il suo collega Conte mi pare che abbia in pochi mesi trasformato e naturalmente in modo molto positivo. Grazie. Ci inventiamo qualcosa? Non lo so, adesso vado a dormire. Vediamo. Mi viene in mente qualcosa mentre dormo? No, vabbè, Napoli è forte. Napoli è una squadra di punti di forza, sono tanti. Per me centro campo e davanti sono veramente forti. Anche la difesa è una squadra completa. Oggi ha cambiato tanti giocatori per la Coppa Italia. Anche chi è in panchina sembra una squadra medio-alta Serie A. Perciò è una squadra importante. Andremo giù e andiamo a battagliare, ragazzi. Non abbiamo paura di nessuno. Se vincono, vincono. Salve mister, è Giorgio Musso di Crescimercato.it. Le chiedo le condizioni di Mota e se può recuperare per il Napoli o eventualmente è con la Roma. Grazie. Mota ha avuto un piccolo problema sul gluteo. Una cosa rarissima. Perciò non è una cosa grave perché è un muscolo che non è come un flessore o altre cose. Speriamo di recuperarlo per Napoli. Potrebbe esserci e vediamo. Valuteremo in questi due giorni che rimangono.